Prendiamoci un attimo oggi per parlare di un argomento serio. Un legislatore del Partito Liberale Democratico ha scatenato una violenta reazione dopo aver etichettato la comunità LGBT improduttiva in termini di parto e avvertendo che una società che accetta rapporti omosessuali rischia un aumento di persone infelici. La giovane parlamentare Mio Sugita sta affrontando critiche a livello nazionale dopo aver contribuito con un articolo per la rivista conservatrice Shincio 45 in cui si interroga su ciò che lei ritiene essere la recente tendenza dei media giapponesi verso una copertura favorevole delle questioni relative alla LGBT. In esso Sugita ha sostenuto che non vi è alcuna giustificazione per gli sforzi dello Stato e dei comuni per investire il denaro dei contribuenti in politiche di sostegno delle coppie dello stesso sesso perché, aperte virgolette, questi uomini e queste donne non portano figli, in altre parole, sono improduttivi. La recente tendenza dei media di appoggiare le relazioni tra persone dello stesso sesso in nome della diversità, ha detto, potrebbe rendere le persone incapaci di godersi il romanticismo normale e sposarsi credendo di avere un'opzione per essere omosessuali e di conseguenza aumentare il rischio e il numero di persone infelici. Una società privata di buon senso e normalità è destinata a perdere l'ordine e alla fine a collassare. Non voglio che il Giappone sia una società come questa, ha concluso nel suo articolo di 4 pagine. Durante un'intervista, Sugita dice la sua in merito alla legge del comune di Shibuya per l'uguaglianza dal momento che molti componenti della comunità LGBT si sono trovati a volte in difficoltà anche per affittare una casa. Quando le hanno chiesto se secondo lei si dovrebbero educare gli studenti nelle scuole sull'LGBT dal momento che il numero dei suicidi tra questo tipo di studenti è sei volte più alto rispetto agli altri e lei ha detto che sono una minoranza troppo piccola e non serve. Sugita dice anche nella sua scuola c'erano delle ragazze che magari si innamoravano. di una loro compagna, magari più mascolina e cool e le scrivevano persino lettere d'amore però poi una volta finite le scuole le stesse si sono trovate un marito e hanno fatto bambini. Se invece si insegnasse nelle scuole il concetto di LGBT a che fine faremmo? Queste ragazze probabilmente potrebbero non tornare più indietro. Trevendo che gli auguri e io sono ragazze probabilmente potrebbero rendere Sempre durante l'intervista quando le hanno chiesto cosa ne pensasse delle persone transgender ha detto che per lei è una malattia ma bisogna parlarne per vedere se può essere curata con i soldi dell'assicurazione sanitaria dal momento che in Giappone per esempio raddrizzarsi i denti è un'operazione a pagamento ma togliersi le carie è coperto dall'assicurazione nazionale La comunità LGBT della nazione ha risposto furiosamente alle osservazioni di Sugita La Japan Alliance for LGBT Legislation ha rilasciato una dichiarazione in cui si sottolinea che la descrizione di Sugita delle persone LGBT come anomale non tiene conto del riconoscimento da parte del LDP, Partito Liberale Democratico, del fatto che molte minoranze sessuali soffrono nell'essere costrette ad entrare nella norma imposta dalla società Il membro dell'assemblea di Toshima, Taiga Ishikawa, uno dei primi politici apertamente gay del Giappone ha detto che dato il ruolo di Sugita come membro del partito del governo le sue osservazioni appannano significativamente la reputazione del Giappone prima delle Olimpiadi del 2020 L'omosessualità non è la definizione di infelicità ha detto sono commenti discriminatori come quelli di Sugita che ci rendono infelici è un discorso molto serio e delicato noi siamo convinti che l'accettazione sia il primo passo per una vita serena e una giusta coesistenza e voi cosa ne pensate sull'argomento? fatecelo sapere nei commenti